Ciao a tutti ragazzi, oggi 20 settembre 2021 ho visto questa Fiat Panda 750, anni 90 sarà, Fiat Panda 750 anni 90, tetta apribile, di dentro, cominciano i sedili, buoni, oppure sono modificati, questa è la macchina, bellissima, Fiat Panda, tetta apribile. Anni 90, Fiat Panda 750, tetta apribile, a Castrolibero, guardate cari amici, la ricordo alla vecchia Joe, che è appassionata di pante, poi a Marvin, a Ulisse Primerano, i miei amici di Facebook e di Youtube, appassionati di Fiat Panda, una rarissima, Fiat Panda 750, tetta apribile, vedete qua la scritta Fiat Panda 750, lo 0 di 750 non, 0 per se niente. Ecco qua, cari amici, dal gommista, troppo bella questa Fiat Panda 750, tetta apribile, tetta apribile, perché vedete qua, doppio tetto apribile, favolosa. Ecco qua, cari amici, 20 settembre 2021, bellissima, Fiat Panda, tetta apribile, ve la faccio vedere così, guardate. Spero che il proprietario la tiena ancora, che è troppo bella. Non ce ne trovano tutti i giorni le pante col tetto apribile, le pante col tettuccio, soprattutto quella col doppio tetto, soprattutto quelle col doppio tetto, non si trovano. Oppure quelle più rare sono le pante 30, doppio tetto apribile, oppure le pante 30 col tettuccio, con un solo tetto apribile. Bellissima, bellissima, ecco qua, cari amici. Bellissima, troppo bella. La faccio vedere così. Sarebbe bello sentire il rompo, ma per il momento bussiamocela così, poi si vede così, e c'è, e c'è, non va niente. Ecco qua, ecco qua. Panda tetto apribile. Lo sto facendo per voi, amici di Facebook e di YouTube, ho passato di auto annovando, ho passato di Fiat Panda. Ecco qua. Lo faccio vedere così, per l'ultima volta. Guardate, cari amici, guardate. Guardate, cari amici. Guardate, cari amici. Guardate.